Hey tu! Da dove pensavi che uscissi, amico mio? Dalla finestra? Sarebbe divertente, sarebbe un intro particolare Io che salgo dalla finestra Magari io ci penso e mi adotto Per avere l'attrezzatura Amici miei, faccio questa piccola intro per dirvi che È ufficialmente partito quello che è il torneo dei sub Per il canale, per gli abbonati del canale Twivich Quindi qualora vogliate, ragazzi, basta che andate O sulla vostra mail, perché vi avrò già mandato Sulla mail del vostro account L'invito per il torneo, che si terrà sabato Mentre se invece non avete l'invito Basta che andate nella chat di Twivich Che trovate il link qua sotto in descrizione Andate là, scrivete in chat Punto esclamativo torneo E potete, per appunto, vi verrà mandato l'invito del torneo Sappiate che è un invito solo per i sub Quindi chi non è sub o si abbona col Prime O si abbona pagando, visto che questo mese Costa la metà per via del subtembre E niente, volevo solamente dirvelo Dette questo ragazzi miei, scusatemi la intro In realtà non mi soffermerà molto Vi dirò che ovviamente, qualora vi piaceva il video E vi invito a lasciare un like tattico E tu dirai, ma come puoi? Non mi hai ancora detto che cos'è? Perché un like tattico? Perché i ragazzi, ovviamente mi fa piacere se lo fate Se vi iscrivete, qualsiasi altra cosa Io il video che voi state per vedere Lo devo ancora registrare Sto per andare live Tipo perché oggi è martedì sera Voi vedrete questo video di mercoledì Io non so come sta performando questo druido Se vi sto facendo il video Probabilmente ha performato bene O comunque perlomeno mi ha divertito molto Quindi ragazzi miei La lista la trovate qua sotto in descrizione Jobbo lavora come uno schiavo Vi ricordo sempre che per appunto c'è l'evento Di questo weekend Sabato pomeriggio si trarà il torneo dei sub Cioè voi vi sfiderete E vinceranno i migliori Vi massacrerete A colpi di Control Warrior O cazzo shaman E boom E bombe Boom bombe Secondo me è un deck divertente Devo fare un video Sul boom bombe Boom bombe La classe la scelgo Basta che ci metto tante cose che fanno boom E il resto fanno le bombe Quindi ragazzi miei Vi auguro una buona visione Spero che il video vi piaccia Spero anzi che sia piaciuto a me Visto che io sono nel passato Voi siete già nel futuro Mentre vedete questo video Vi auguro una buona visione Vi ricordo l'evento E un like E un commento Con una visione E quello che volete Ragazzi se volete anche regalarmi Una Lamborghini Sapete che è molto apprezzata Buona visione Andiamo Stasera non gioco a Teppen Vado diritto per diritto con Arston E andiamo a far Legend Il problema è che chiaramente È una win streak Fortunella questa amico mio Non durerà in eterno Giustamente Mage Allora Mage 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 Caro Mage Ti scrivo Ti scrivo che tu potresti rompere il cazzo Con i tuoi Taunt Highway E sta mano Non è il massimo Sebbene sembra ficca Non è bellissima Però ho seri dubbi Che mandando via tutto Riesca a trovare una mano migliore di questa Sebbene ripeto Non sia perfetta E credo che comunque sia Una delle migliori opzioni Che possiamo optare Opzioni che possiamo optare Sabato inizia a lavorare Non ci sono Che sfiga Fabio Oschi Ma è il pomeriggio Amico mio Guarda che è il pomeriggio Il torneo È una madonna Si tiene Sabato pomeriggio Magari riesci Non lo so Vedi te Cosa sta cercando Enrico Che continua a fare Comandi random Vedo che continuano a partire Comandi randomici Nel coso Eh Va bene Ho provato l'agromulok shaman Nel caso Me lo consigli L'ho visto E sembrava abbastanza carino Come mazzo Sì Sì Credo che sia anche Abbastanza safe Come craft Alla fine I marlock Espansione dopo espansione Tornano sempre Quindi Penso che non sia sbagliato Dire Dire di Di craftare i marlock Ci sono sempre Raga Ci sono mese per mese Raga Una cosa che non vi ho detto Cazzo Nella intro Nell'entro Nel pre-live Oltre al torneo E al games week Porca trago Non vi ho detto Che c'è partito Il subtember Raga È partito Il subtember Chi non ha Amazon prime Vuole subare poli E lo vuole fare Risparmiando soldi Ora le sub Costano la metà Raga Che figo Ci sono le sub Che costano la metà Mi è venuto in mente Adesso Ah Dalle 22 A posto Una stronzata Perfetto Mi ha anche Un stato letta Quindi tutti quelli Che arrivano da letta Sanno che ho appena detto Una stronzata Perfetto Fantastico Molto molto bene Ciao letta Grazie per Per l'host Garissimo L'altro giorno Raga Ho lurcato da letta Dovete sapere Per tipo Tre ore Aveva scritto Che faceva Legend in due ore Non l'ha fatto Raga Ha mentito Ha mentito Però Io vi giuro Quando vedo giocare letta Mi sento in colpa Di esistere Perché non è giusto Che Non è giusto Che possa streamare Non è giusto Che possa streamare Perché nel senso Io non posso avere La stessa Reach Di uno così bravo E dico solo putterate Gioco a mazzi Come Trent Druid Quindi letta Mi dispiace E grazie per l'host E buona Buona serata Solo famo una shout out A sto povero Simone Oh Moderatori Vi pago Cioè non Vi non pago E voi neanche gli fate Lost Sì lost La cosa lì Ma guarda questo Già fatto Io non lo vedo Quindi lo rifai Va bene Lo rifai Ti pago Cioè in realtà Non sei pagato Ma non è mio interesse Io non ti pago Quindi tu lo fai comunque Parca tra i quanti danni Cazzo Allora Stiamo calmi Stiamo calmi Stiamo calmi Stiamo calmi Allora Quanti danni sono con Savage L'ora Sono Tre Ehm Tre Beh fammi i conti Come Dio comanda Allora Ehm Ciao Letta Sono Otto Nove Dieci Undici Dodici Tre Quattordici Quinti Seis Sette Diciotto Diciannove Madonna siamo un off Serio Un off Considerando l'euro power Tre Più otto Undici Dodici Tredici Diciannove Non ci credo Non è corretta questa cosa Secondo me non è corretta questa cosa Siamo un off E qui parte la domanda Andiamo comunque O no Il rischio qual è? Che lui faccia Conjured Ed escano i due Taunt Un Taunt va bene Perché l'Ital comunque Il prossimo turno Due no Dritto per dritto Raga Ma certo che vado comunque Cioè qua mi punisce Frost Nova Più una cura No Frost Nova Più Frostbolt Ehm Chiaramente gli AoE Non mi puniscono Tipo Blizzard Perché a parte che spawn All'1-1 Vado di vinco di faccia Ehm Se lui fa Conjured A meno che non escano 2-7-8 Teoricamente l'Ital comunque No A conti fatti Perché lui trada questo Io vado di Savage Roar Sono 5 6-7-8 Ehm Se volessi andare anche Con la benedizione 2-7-8 Mi bloccano Ma Un 7-8 Solo Mi fa vincere Quindi va bene Blizzard congela la faccia Ma che cazzo sta di Bruno Ma Bruno è Il nome dell'allenatore Della paresta Di Di Smeraldopoli Cioè Sta di Bruno non congela Faccia Blizzard Ma ci manca solo quella Cazzo Al mage Oddio È già partito disperato Desperate moves Incoming Ma Frost Nova Frost Nova Ed è chiamata Perfetto Isma Era un all-in Molto committed Usiamo questi termini da pro Che tanto non so cosa vogliono dire Un all-in Molto Estratificato In una giocata Ponderata Secondo me In previsione Dell'8,6% Di win rate Aggiuntevo Rispetto all'utilizzo Di una carta Dal deck specialist Numero 2 Visto e considerato Che è presente Un numero maggiore Di mage Che giocano Alla determinata carta In previsione Di un meta Statisticamente Predisposto A quello che La complessità E trioplica Ovviamente Era la giocata È legata Il sub-temper Di questo anno Noi streamer Diventeremo ricchi Non è vero L'importante è avere una Lamborghini Non essere ricchi Perché se hai la Lamborghini Dimostri a tutti Che sei ricco Se no È facile dire Sono ricco Ma tanto poi Non vale un cazzo Ci sono un bel po' Di sconti E raga Spettacolo Peccato che parte Alle 10 di questa sera Gran peccato Però va bene Quest shaman Quest shaman Allora Terremo il coin Secondo me Per la gnoma Inglobata Perché così Possiamo fare Coin su di lei E attivarci Un bel po' Di board Raga ripeto Giusto per ricordarvi Tutto Punto esclamativo Torneo Per partecipare Al torneo Di Dei sub Che si terrà Sabato Ovviamente Questo comando Vale solo per i sub In più Punto esclamativo Vantaggi Se volete sapere Quali sono i vantaggi Dell'essere sub Tutti i due comandi Che vi ho detto Funzionano solo Se siete già sub Ecco Regali una sub Che ti costa 2,50 L'utente Al quale è stata regalata Potrà rinnovarla A un euro No man Quello era quello Dell'anno scorso Sebi Ti stai confondendo Con quello dell'anno scorso Il subtember Dell'anno scorso Era così Ed è stato uno Di subtember Più belli di sempre Secondo me Perché ha favorito Molto Le community Crescere Tipo la mia community È nata su quello Cioè io lo dico Apertamente Raga Se non ci fosse stato Charlie Scigamelo E poi quelli Che sono arrivati dopo Quindi Frost Cosimo Putin Eccetera Io avrei un canale Che sarebbe la metà Letteralmente la metà Raga Cioè Io mi sono beccato 400 sub gift In un mese E tutti questi 400 Hanno praticamente Rinnovato Il mese dopo È stato un mese Della madonna Il subtember Dell'anno scorso Per me Quanto durerà il torneo Il torneo immagino Durerà diverse ore Amico mio Circa 3 4 immagino Una roba del genere Followate poi Su instagram Grande Limonazzo Limonazzo Io ti devo Delle cose Ti verrà regalata la sub Perché tu c'hai già Amazon prime Mi dispiace Regalare la sub A chi può farla gratis Però Però Amico mio Grazie Raga dovete lasciare Il follow su instagram Come se no Vi verranno asportate Le corde vocali È molto importante Per me Lo dico in maniera Molto triste Senti no Il prossimo turno È forza della natura È molto brutto Fare adesso Anima della foresta Trade trade Ho comunque Borde Lui cosa si è ripreso In mano La vulpera Cazzo è grossa Lei è Eh lei è grossina Lei sarebbe grossina È una 4 5 Ergo Fanculo È forte Lei non la trado Il prossimo turno Però C'ho doppio Concimatron Cazzo Vorrei Mettere tagliotto Così poi Faccio anima della foresta E cerco di prendere Più pezzi possibili Capito Evoco più Trent possibili Così riesco a far entrare Doppio concimatron Economico Capito Un attimo solo Che adesso Leggo la donation Salve Poli Visto che sei Nelle onde twitch Quindi botti Esatto Amico mio Bravo Visto che sono Nella home E visto che twitch Mi ha messo Nella home Sto usando i bot Lo ammetto pubblicamente Raga io uso i bot Soprattutto quelli di telegram Devo dire che vanno molto comodi Quelli Sono quelli che tipo Ti dicono le informazioni Devo dire che è il top Sei chi è il top gifter Del canale di viking Viking Sul serio? Non lo so raga Io Marco diaz Non seguo io Cioè non posso avere Modo di seguire Anima della foresta Qua mi conteggia Un paio di tre Ant Però questo me ne fa mettere Tre Ant Hai capito la battuta Tre Ant Però va bene Dai ci sta comunque Settarla qui Lui non Speriamo non finisca La questa adesso Ma ho diversi Diffici Ciao sono Sirius Il botto posso avere Un'adozione di Signor Paolo Ma vaffanculo Che cazzo vuoi te Da me Grazie Davide Per i 5 euro Amico mio Ma lei Lei la deve smettere E far donation Cazzo Davide Te sei già sub Hai già fatto molto Amico mio E la smetta La smetta Mi raccomando Grazie Davide Bentornato Cioè bentornato Grazie per la donation È ovviamente Più che tanto Grazie mille Davvero Grazie grazie mille Aspetta fammi capire Anche i nuovi di sub regalati Costano la metà Wow Wow Figata 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 Io mangio qui E mangio lì Ma che cazzo Stai a di Allora Questi sono 4 Treante complessivamente Sono 4 Treante complessivi Che muoiono Giusto One Two E il prossimo turno Three four Questo qua costa due E questo costa due 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 E riesco anche a fare Un'adozione Degli animali Cosa No Benedizione degli antichi Sei del Veneto Io sono del Veneto Amico mio Ho un amico che conosce Suo fratello piccolo Cosa Eh La resub costa due euro e cinquanta Lo streamer prende due euro e cinquanta Gli streamer possono regalare Tutte le resub Che vogliono Purtroppo no Riuma Perché ovviamente Se no Romperemo Twitch Purtroppo non è così Che funziona Che funziona Benedizione Beh comunque Devo tradare Poi no Benedizione Muore quello Trado là Sì ma Ha ben poco senso Sta cosa Però è la cosa migliore Che posso fare Questo va qui Tipo questo esplode E arriva con Cimatron E con Cimatron E conviene che tradi lui E lui Perché così non può evolverlo Capito? Sì Purtroppo ci sono le tasse Amico mio Eh Vorrei fare i semici da Blur Tranquillo Limonazzo Amico mio Mi dai già Troppo una mano su Mi dai già una mano Anzi enorme Su quello che è Instagram Quindi raga Vi ricordo sempre Il punto esclamativo Instagram Quindi mi stai già aiutando Tantissimo lì Amico mio Porca troia Sei forte Non pensavo avesse anche il doppio Va bene comunque Che lo faccia adesso Piuttosto che dopo Che adesso andiamo di Aiuto della Foresta Quindi Aiuto della Foresta Orca Madosca Aiuto della Foresta Ragazzo ubriaco Prossimo turno Andiamo di Benedizione Beh Anima E via Ci punisce solo se C'ha l'altro che rimbalza in mano Solo quello Però ha già usato due demoni E uno di quelli che rimbalza Quindi secondo me ci sta Tuo fratello fa Il trissino a Valdagno Sì esatto Esattamente lui Amico mio Mio fratello Elesi Esattamente È proprio lui Cosa dovrebbe essere questo rogue Figo Divertente Non competitivo Ma divertente Sicuramente Sì Davide Tu mi dai una mano Fin Troppo Raga Veramente No veramente il mio prossimo step di Twitch e Youtube Uno dice Cazzo Essere Invitato a fare i casting Delle esplosioni antiche In realtà raga il mio prossimo obiettivo di Twitch Quindi che comprende Twitch In realtà è raggiungere I 10.000 follower su Instagram Io vi giuro raga Sono mesi che sto pushando Instagram come lo schifo E il mio obiettivo prossimo Visto che siamo a 9.050 È quello di arrivare Cosa È quello di arrivare i 10k su Instagram Quindi se c'è gente che non mi segue ancora su Instagram Vi prego raga fatelo Perché mannaggia sacripante Devo assolutamente fare i fottutissimi 10k Madonna che cazzo di turno Porca di quella troia È stato un piacere amico mio Sai? Senti ma potrebbe essere l'Ital 12 No 17 Peccato 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 Allora Probabilmente questo andrà a faccia Questo lui lo trado Questo lui lo trado Per evitare cose strane Lui ha già usato le due spell Potrei tradare anche lui Perché se lui pesca quello che rimbalza in mano un pezzo Prima di tutto mi potrebbe fare board clear con il serpente qui E questo gli potrebbe dare aoe Il totem invece serve solo perché così almeno mi assicuro Che se non finisce questo turno la partita e finisce quello dopo Porca tre raga ma sto prendendo veramente tanto sangue della gamba Cazzo Non pensavo di essermi fatta così tanto male andando in bici oggi Va bene Tutto perfetto in realtà È l'Ital Voglio ben vedere io Cioè Sono Non è proprio l'Ital 4-8-12-16 Vi faccio notare come la partita di prima ho pescato zero buff Questa le ho pescate tutti Me ne mancava solo uno E i Savage Roar Bello raga Madonna che bello sto mazzo Porca puttana Yeah Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti